Siamo nella prima fase di un progetto pilota sviluppato da Ground Truths Solution per diverse istituzioni umanitarie. Qua in Italia l'obiettivo è di aiutarci giustamente a sviluppare dei strumenti che possa permettere alla Croce Rossa italiana e a tutti gli operatori presenti negli sbarchi ma pure nei centri di accoglienza a raccogliere la percezione dei migranti, dei beneficiari di tale modo assicurarci della qualità dei servizi e dei programmi offerti dalla CRI. Si parla molto di offrire un'assistenza utile alle persone che ne hanno bisogno. È molto bello vedere un'organizzazione importante come la Croce Rossa iniziare a fare questo proprio, specialmente attraverso i volontari che hanno una sapienza, hanno un'esperienza molto grande. Inserendo i volontari e gli operatori di Croce Rossa nel processo di formulazione delle domande, del questionario, sicuramente si aumenta la consapevolezza degli operatori sul processo di raccolta delle informazioni e anche sulla loro importanza. In questo modo l'operatore che si trova a dover presentare il questionario ai beneficiari è sicuramente più consapevole del ruolo che ha all'interno del processo.